I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato una donna marsalese, classe 80, residente nel quartiere popolare di Sappusi, in esecuzione di un'ordinanza sostitutiva della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, disposta dal Tribunale di Palermo. L'arresto costituisce l'esito di ripetuti controlli da parte dei carabinieri su numerosissimi acquirenti di droga, cocaina, eroina e crack, soliti gravitare nei pressi dell'abitazione della donna nel cuore di Sappusi, quartiere bunker dove risulta particolarmente difficile per le forze dell'ordine operare senza essere notati. I carabinieri appostati per diverse settimane al ridosso dell'abitazione dell'incallita spacciatrice hanno monitorato un costante afflusso di persone che entrava ed usciva da quella casa e di controlli operati a distanza sulle auto sospette hanno consentito di sequestrare diverse dosi di cocaina, eroina e crack, spesso tagliate in modo grossolano e così ancora più pericolose. Nella giornata internazionale delle donne, poi, la donna è stata vista uscire di casa con la macchina, pur essendo già sottoposta agli arresti domiciliari, manco a dirlo, per spaccio. Fermata dai militari, aveva con sé oltre 1000 euro in contanti, derivante presumibilmente dall'attività di spaccio mai interrotta e destinato forse all'acquisto di altra droga. I carabinieri hanno dunque perquisito l'abitazione dell'indagata, bilancini di precisione, bustini di cellofan per confezionare le dosi di cocaina, blocnotes con l'indicazione dei nomi degli acquerenti della droga. L'esito dell'irruzione dell'8 marzo ha consentito al Tribunale di Palermo di disporne la custodia in carcere, visto che, proprio perché reclusa in casa, lì aveva costruito la sua prolifica centrale di spaccio.